La manutenzione predittiva è parte integrante dei processi di trasformazione 4.0 a più alto impatto potenziale in termini di efficienza e aumento della produttività. Partendo da concetti essenziali e dai possibili modelli, vedremo concretamente quali funzioni e tecnologie possono essere implementate dal costruttore di macchine. Si focalizzerà sui componenti meccatronici pronti a essere nodi attivi dell'ecosistema IoT, sia nelle macchine 3.0 che in quelle di nuova progettazione.